Questa sera ci troviamo sotto casa del signor Ignazio, detto Ufio Raio, per fare luce su questo vero lavoro. Attacca, via po'! Se vieni notte e giondo, hai sempre illuminato, i chatti come figli, sei tutto consumato, non ci astuti mai, e ora so qui voi, se ti taglio una curenti, non do mandarlo a noi. Ti vuoi attaccare o mano sotto me palazzo, 200 euro e toccanizzo l'intalazzo, vico pazzo, c'è l'ultra se ne esci, disco furtigato, da confusione faremo pazzo l'amato. Signor Zappulla, nella buca c'è posta!